200 sale per mostrare in questi giorni un film bellissimo, Io capitano, che ho appena visto e devo dire non riesco a staccarmi da questo film perché è angoscioso, durissimo ma anche lieve in certi momenti e secondo me è necessario. È stato premiato con Leone d'Argento nell'ultima biennale di Venezia che si è conclusa poco fa, Leone d'Argento meritatissimo e ha anche avuto il premio Mastroianni per il miglior attore emergente, il protagonista Seydoux. È la storia di due ragazzi, due ragazzi molto normali che partono dal Senegal per tentare l'avventura dell'Europa. La cosa che mi è molto piaciuta è che Matteo ha voluto usare un'angolazione diversa da quella che hanno usato tutti coloro che hanno parlato del fenomeno dell'immigrazione, cioè ha girato la camera e l'ha voluto raccontare da parte degli africani. Noi ormai siamo abituati a numeri, sappiamo quanti ne sono sbarcati, quanti sono stati dispersi e diciamo ci siamo un po' abituati, quando il telegiornale ci annuncia questi numeri, si parla di bambini ci dispiace, proviamo un senso di pietà, ma tutto passa, questo olocausto ormai è diventato la nostra quotidianità. Invece Garrone ha avuto la capacità di raccontare attraverso l'avventura di Seydoux e di suo cugino Moussa una storia vera dal di dentro e ha fatto di questi ragazzi non due numeri ma dei veri personaggi, pur trattandosi di un film che potrebbe essere considerato quasi una docu fiction, visto che propone veramente, realmente quello che accade a chi tenta di arrivare in Europa. Ne ha fatti dei personaggi veri perché prima si è soffermato in Senegal con la vita normale di questi ragazzi che portano una maglietta dell'ultimo campionato del Barcellona, che indossano delle fake Nike, che sono sempre sul telefonino, ascoltano la musica e sognano di diventare musicisti in Italia, si proiettano come un futuro meraviglioso, vivono in una povertà dignitosa, Seydoux dice alla mamma quando le confida di voler partire il tetto non regge più, voglia mandare dei soldi per te e per le sorelline, la mamma non vuole e come Pinocchio, e Pinocchio Nero è stato anche accostato questo film, il vero Pinocchio di Garrone, come Pinocchio disubbidisce, parte col puggino di nascosto e comincia quella traiettoria che pochi di noi conoscono, o se la conoscono non la conoscono profondamente, non l'hanno mai vissuta dal di dentro, Garrone riesce a farcela vivere dal di dentro. Ci sono stati diversi registi africani che hanno parlato anche dell'immigrazione, ma l'hanno fatto in tono onirico, tipo Matidiop in Atlantique oppure molto fiction come Moussa Touraine e Lapirogue. Matteo riesce, avvalendosi dell'aiuto di ragazzi senegalesi che hanno vissuto questa esperienza, a raccontarci questa storia delirante di questi ragazzi che seguono appunto questa traiettoria angosciosa, vengono continuamente spolpati da persone corrotte, può essere l'autista, possono essere militari, possono essere semplici delinquenti e ci inquadra questo viaggio passando dal Senegal, Niger in Mali fino alla Libia attraverso un deserto. Ed è anche uno simbolo continuo perché si alternano momenti lievi a momenti fortemente drammatici. L'orrore vero dopo il deserto in cui chi non riesce a camminare abbandona, viene abbandonato e sepolto nella sabbia, si sofferma molto sulle carceri libiche e sulle torture sul fatto ancora di una corruzione spietata. Uno degli elementi che mi sono piaciuti di più del film e che penso siano veramente un miracolo del regista è di aver unito insieme sia la durezza di Gomorra e sia la lievità di Pinocchio, questo elemento fantastico che gli piace sempre e l'incursione del realismo magico è incastrata perfettamente perché a un certo punto vediamo la donna che non è riuscita a salvare, che vola in aria e lo segue oppure il suo sogno di ritorno a vedere la madre e questi momenti leggeri danno un respiro al film veramente unico. Alla fine vengono imbarcati su una barcone fatiscente, solo vederlo ti si stringe il cuore, carico di tantissimi migranti e siccome lo scafista non vuole affrontare la legge lo affida a questo ragazzo sedicenne e comincia questa attraversata, devo dire che ti spacca l'anima, veramente. Se tu non ti conduis il bateau, ti ammèi tu e tu ammèi per l'imprima. Ma io non ne ho mai conduito un bateau, non ne ho mai nascito. Se tu mi dice io capitano e lui urla in quel momento vorresti rompere lo schermo e andare ad abbracciarlo veramente. L'aiuto importante per Garrone che modestamente dice io non conoscevo quella cultura, ho dovuto affidarmi a chi la conosce, è stato soprattutto Quasi, un emigrato che ha vissuto esattamente la stessa storia e che ora fa il gelatale in Italia e anche altri senegalesi. L'ultima cosa che vorrei aggiungere è che il casting è stato fatto in Senegal e sia Musa che Seidù non avevano mai recitato e pian piano sono riusciti a entrare nella parte devo dire soprattutto Seidù che gli auguro veramente una carriera perché è formidabile. Tra l'altro la mamma di Garrone li ha ospitati per un anno, i due ragazzi e quindi pian piano hanno anche imparato l'italiano, si sono adattati al loro ruolo e increduli hanno ricevuto questo trenno a Venezia. Lo consiglio assolutamente, secondo me non solo gli spettatori generici ma dovrebbe essere mostrato nelle scuole per far capire ai ragazzi che cos'è questa realtà, per far capire come per loro è facile avere un visto e fare un bel viaggio, per i ragazzi è impossibile, i ragazzi senegalesi e infatti Matteo e anche Quasi dicono come sarebbe importante poter aprire i confini e far viaggiare questi ragazzi, far loro conoscere il mondo e secondo me sarebbe importantissimo anche farlo vedere in Africa per scoraggiare quelli che non hanno veramente bisogno di emigrare, far capire loro quanto è duro e che prezzo ha il loro viaggio.